Cerco di trasmettergli poi un metodo che uso io quando lavoro che è la conoscenza della realtà, poi la trasfigurazione della realtà per immagini e quindi tutto questo percorso nel mio caso dura nove mesi parte dall'idea, dallo sviluppo dell'idea passando per la struttura narrativa, la sceneggiatura, le riprese, il montaggio e tutto viene sviluppato qui dentro anche con l'apporto degli altri cioè cercando di far capire che si ha a che fare con il lavoro di squadra anche se si lavora sul progetto di uno intervengono tutti gli altri noi siamo una classe di 16 ragazzi, tra ragazzi e ragazze tutto viene sottoposto al consiglio, al giudizio, all'attenzione degli altri in modo che il lavoro viene fatto a voce alta la cosa che io cerco di insegnarli è che tutto nasce dall'osservazione del reale ma anche per fare un film di fantascienza quindi nel momento in cui si vuole raccontare qualcosa, un ambiente, un personaggio la prima cosa che chiedo ai ragazzi è di conoscere al meglio quindi documentando la realtà che vogliono poi raccontare e trasferire sulle immagini ripeto, questo sia se si vuole andare nella direzione del realismo ma anche se si vuole andare in qualsiasi altra direzione tutto quello che viene poi portato in scena deve essere prima conosciuto una volta che si ha una conoscenza dell'argomento, del personaggio che si vuole raccontare e il passaggio successivo è iniziare a costruire una struttura drammaturgica che ha delle regole come un artigiano segue delle regole per costruire una sedia con quattro zampe che deve stare in piedi la prima cosa è la motivazione, cioè l'urgenza di voler fare un lavoro di tipo artistico perché poi insomma la professione è molto più difficile delle altre perché da un punto di vista pratico non è necessaria quindi quello che alla base si richiede secondo me è una grande urgenza una grande urgenza nel voler apprendere poi dei codici di linguaggio che ti permettono di sviluppare al meglio questa passione Gli studenti hanno a disposizione dei mezzi tecnici che gli permettono di lavorare serenamente sporcandosi le mani che è la cosa fondamentale e poi l'obiettivo di questo corso, di queste lezioni è proprio la costruzione di un film quindi tutto quello, e c'è una parte teorica ma una parte teorica nella misura in cui si deve insegnare un linguaggio e questo linguaggio deve essere fatto, deve essere scelto perché insomma ci stanno vari modi di fare cinema, di raccontare per immagini ma tutto quello che è la conoscenza del linguaggio deve essere poi finalizzata alla pratica, alla realizzazione alla realizzazione collettiva poi, perché insomma loro fanno tutto tra di loro quindi i vari ruoli vengono rivestiti secondo le predisposizioni di ciascuno però da ciascun componente della classe Noi per esempio abbiamo nel corso dell'anno strutturato sei sceneggiature queste sei sceneggiature diventano sei cortometraggi e quindi nella parte delle riprese è effettivamente una parte del corso quindi io li seguo poi fuori dall'aula, usciamo da qua e seguo le riprese vedo in che modo si muove la truppa, vedo in che modo si rapportano anche con molto anche seguire il rapporto interpersonale che hanno tra di loro nel momento in cui vanno a lavorare cioè le varie figure professionali, il rapporto del regista, fonico, montatore, rettore della fotografia il linguaggio che si parla e tutto quanto insomma c'è anche una parte che viene all'aria aperta qualsiasi scelta che fanno di linguaggio dall'ottica che mettono nella telecamera al movimento di macchina al taglio dell'inquadratura gli chiedo io che significato ha dal punto di vista del racconto e dell'emozione quindi è un processo più maieutico nel senso che cerco di renderli consapevoli delle scelte che fanno e cerco di fargli capire che qualsiasi scelta è finalizzata a trasferimento di un'emozione oppure alla tipologia di racconto che si vuole fare secondo me il talento è una definizione molto vaga perché si può avere tanto talento ma poca determinazione o peggio tanto talento e per nulla avere disciplina che è una cosa fondamentale quanto il talento in ogni caso quello che cerchiamo di fare è capire le predisposizioni di ciascuno cioè per esempio in questa casa è un corso di cinematografia però non è che tutti e quindi vogliono fare i registi per fortuna quindi ci stanno degli studenti che sono predisposti per il montaggio o altri che sono dei bravissimi operatori in quel senso più che lavorare sul talento si cerca di capire la natura, la predisposizione di ciascuno nell'attitudine al lavoro che tipo di lavoro poi effettivamente vuole, sa fare, può migliorare e quindi studiare quella parte di linguaggio questo è il primo anno che io insegno qua sicuramente molti di loro sono pronti per fare delle attività di tipo professionale quindi insomma se poi c'è l'occasione di portarli su un set o di dargli la possibilità di fare uno stage sono ben contento di segnalarli ma le prospettive lavorative poi possono essere moltevoli ci ripeto sempre nella predisposizione e nell'urgenza di ciascuno studente qua sicuramente abbiamo l'occasione in un anno di studiare il linguaggio del cinema inteso come racconto per immagini quindi se si ha la voglia sicuramente si è più consapevoli della scrittura della sceneggiatura, della messa in scena e soprattutto si conosce, si sperimenta uno stile di diversi stili di regia secondo quello che ciascuno vuole raccontare questo poi può portare a una realizzazione professionale